Quanto manca per completare l'organico? Diciamo che l'organico secondo me sono stati fatti i passi giusti, è chiaro che non è ancora sufficiente, dobbiamo fare qualcosina, già ci stiamo muovendo per completare l'organico e speriamo di farlo nel più breve tempo possibile perché poi bisogna assemblarli una squadra tutta nuova, quindi ci vuole tempo. In quali reparti soprattutto interverrete? Mi pare che comunque l'undici che abbiamo visto sia competitivo, però la Rosa va integrata, soprattutto in quali reparti? Hai detto bene, è chiaro che noi nell'undici siamo una buona squadra, però a livello di under dobbiamo fare ancora qualcosa e poi sicuramente dietro dobbiamo completarci perché abbiamo solo due difensori centrali over e un ragazzo seppur bravo del 2000 centralmente, quindi comunque un terzo centrale. Dal punto di vista personale è una esperienza questa che è maturata sostanzialmente un mese e mezzo fa con l'Avezzano che aveva scelto un management e poi c'è stato il cambio. Come ha vissuto? Immagino con grande soddisfazione questo avvento all'Avezzano. E sì, è stata una bella scoperta, poi ho conosciuto il presidente che è una persona eccezionale, io non ho seguito l'Avezzano nelle ultime partite perché comunque seguo da tanto, comunque seguo tutti i campionati dalla Serie A alla prima categoria perché facendo il mio lavoro bisogna conoscere i giocatori e quando c'è stata la chiamata dell'Avezzano la gente è stata una grande soddisfazione, cosciente della difficoltà perché la piazza esigente a Avezzano è una piazza importante che merita grandi soddisfazioni dove si è fatto calcio ad ottimi livelli, quindi noi speriamo con il lavoro di regalare delle belle soddisfazioni sia ai tifosi e soprattutto al presidente che se lo merita.